Si svegli, mister Frehman, si svegli. O che voglio insinuare che lei abbia dormito sul lavoro, nessuno merita riposo più di lei, ma tutti gli sforzi del mondo ebbero vari, finché diciamo solo che è di nuovo giungo il suo momento. L'uomo giusto nel posto sbagliato può fare una grande differenza. Perciò si svegna, mister Frehman. Apre gli occhi e si svegli.